ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi video acquisti ho fatto un mini mini shopping su amazon perché ho preso soltanto quattro prodotti però mi faceva piacere stare cinque minuti con voi e farvi vedere quello che ho acquistato partiamo da una cosa che volevo già da un po di tempo ci stavo girando intorno poi non mi decidevo mai insomma adesso mi sono decisa ho preso questo libro si tratta di cenerentola è la fiaba di cenerentola ma ha una particolarità è illustrato con disegni di roberto innocenti e traduzione di carlo collodi questa è un'edizione molto particolare perché si tratta di una cenerentola ambientata come raffigurazioni negli anni 20 e quindi ero veramente molto attratta si tratta di un libro da collezione e siccome cenerentola è la mia fiaba preferita io non potevo assolutamente lasciarmelo sfuggire per farvi capire un pochino meglio come sono i disegni vi faccio vedere qualche immagine vedete che qui c'è cenerentola al ballo e la moda è proprio quella tipica degli anni 20 anche sulla copertina come potete notare c'è cenerentola che sale sulla carrozza con questo vestito tipico appunto della moda di quell'epoca io lo trovavo davvero particolare non avevo mai visto un libro del genere quindi essendone rimasta colpita e essendo come vi dicevo prima cenerentola la mia fiaba preferita ho pensato di comprarmi questo libro poi mi sono comprata una piccola agendina che secondo me è perfetta per gli amanti dei libri per i lettori appassionati si tratta di questo libretto ogni libro una nuova avventura ovviamente vi lascio giù in info box i link di amazon per poter acquistare queste cose qualora vi interessassero questo mi piaceva tantissimo perché consente di raccogliere tutte le vostre letture vi faccio vedere com'è strutturata questa agendina vi faccio vedere un pochino com'è strutturata questa agendina da questa parte voi potete mettere la recensione poi le frasi più belle e gli argomenti da approfondire e poi qui potete mettere ovviamente il titolo com'è la copertina quindi proprio com'è rilegata l'autore l'anno di pubblicazione il genere letterario se vi è piaciuto quindi quante stelline date i motivi per cui l'avete letto cosa vi ha ispirato la data quando l'avete iniziato quando lo avete finito le vostre note personali quindi insomma io la trovo veramente molto carina io da tanto tempo cercavo una cosa di questo genere perché ho l'abitudine di scrivere sulla mia agendina tutti i libri che ho letto quelli che voglio leggere quelli che magari mi sono piaciuti quelli che non mi sono piaciuti però non era una cosa strutturata era più una lista diciamo così invece questa quando l'ho vista ho pensato non posso non acquistarla perché fa proprio al caso mio perché posso mettere delle cose ulteriori dei dettagli in più così magari fra qualche anno quando andrò a riaprirla potrò vedere maggiori dettagli e le mie opinioni magari di un libro coletto e che magari poi nel tempo tendono a sfuggire un pochino perché magari passano gli anni poi si leggono altre cose e credo che invece sia molto carino poterle conservare sicuramente questo è un acquisto che fa molta più gola ai lettori piuttosto che ad altre persone però davvero io la trovo molto molto carina come idea poi ho preso un prodotto che al giorno d'oggi serve a tutti ossia le mascherine queste sono tipo le mascherine chirurgiche ma sono leggermente diverse sono fatte in questo modo non so se riuscite a vedere perché c'è riflesso comunque sono mascherine protettive che purtroppo oggi noi dobbiamo tutti indossare in determinate circostanze siccome si fa veramente una grandissima fatica a trovarle io quando le trovo su amazon di solito le compro perché poi non è neanche facile riuscire ad avere la scorta diciamo così necessaria a tutti gli impegni che dobbiamo svolgere fuori casa quindi se dobbiamo andare al supermercato ci vuole la mascherina all'ufficio postale ci vuole la mascherina se dobbiamo andare comunque in un luogo chiuso ci vuole la mascherina se siamo all'aperto ma non possiamo tenere magari un metro di distanza o non siamo sicuri che potremo tenere un metro di distanza ci vuole la mascherina quindi praticamente ogni volta che si esce di casa però siccome sono prodotti comunque usa e getta perché io non mi fido tanto di quelle lavabili preferisco le cose usa e getta perché secondo me sono più igieniche e quindi ovviamente ho bisogno di un po' di ricambio le ho trovate su amazon io vi metto giù in info box il link perché sicuramente interesserà anche a qualcun altro questo prodotto perché si fa talmente fatica a trovarle che comunque purtroppo serve un po' a tutti però sappiate che amazon spesso lo dà come prodotto non disponibile però se voi lo mettete nel carrello e concludete l'acquisto appena è disponibile amazon vi manda una mail poi lo spedisce entro pochi giorni io ho fatto così perché non erano comunque disponibili da nessuna parte dovevo aspettarle mesi e mesi e quindi ho pensato di fare questo tentativo e devo dire che nel giro di due massimo tre giorni vi arriva la mail con la disponibilità quindi diciamo che nel giro di una settimana di solito riuscite ad averle a riceverle insomma ho dovuto comprarle ne avrei fatto volentieri a meno ma purtroppo siamo in una nuova normalità in cui ci servono anche le mascherine ultimo prodotto che volevo da tanto tempo un tegame per fare le torte ma di formato piccolo questo è un formato veramente piccolino adesso lo apro ve lo faccio vedere meglio perché noi siamo solo in due quindi quando io faccio la torta nel tegame quello più grande diciamo classico poi finisce che non riusciamo a mangiarla tutta o magari ci ritroviamo a doverla mangiare per forza perché altrimenti va male allora ho pensato di prendere un tegame piccolino in modo da non dover tutte le volte essere costretti a finire la torta perché poi altrimenti va buttata via questo tra l'altro è un tegame carino perché ha il bordo molto alto adesso vi faccio vedere meglio il tegame è questo a me piace veramente tantissimo vedete che è fatto in questo modo al bordo veramente alto quindi riescono sicuramente a venire delle torte ben lievitate e ha un diametro di 20 centimetri poi però visto che su amazon ce n'erano anche di altri formati io comunque vi lascio tutto giù sono veramente molto curiosa di provarlo questo è un prodotto che io da tanto tempo volevo acquistare ma poi per un motivo per un altro davo sempre la precedenza ad altre cose adesso finalmente mi sono decisa e credo che farò l'inaugurazione del tegame facendo la torta rovesciata di prugne questi sono i miei acquisti come vedete sono solo quattro cose quindi un mini shopping però mi faceva piacere stare in vostra compagnia io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto vi mando un bacio enorme ecco